Samia era una ragazzina somala, amava correre e voleva diventare una campionessa. A sole 17 anni, nonostante l'ostilità degli integralisti, riuscì a qualificarsi per le Olimpiadi di Pechino. Arrivò ultima, ma divenne un simbolo. Il suo sogno però erano le Olimpiadi di Londra, non c'è mai arrivata, la sua corsa si è fermata, a 21 anni, nelle acque del mare Mediterraneo. La storia di Samia è raccontata in un bel libro scritto da Giuseppe Catozzella, Non dirmi che hai paura, edito da Feltrinelli. È una storia reale, che però dentro di sé contiene moltissimi universi simbolici potentissimi. Innanzitutto è una storia incredibile di coraggio, è una storia che parla di sport, parla di come un esser umano riesca a superare infinite difficoltà per realizzare i propri sogni. È una storia che parla di amicizia, c'è un rapporto di amicizia incredibile, fortissimo e che poi si rivelerà il peggiore, perché svelerà un tradimento pazzesco. C'è anche l'universo meraviglioso del rapporto col padre di Samia, che è la protagonista, che sarà fondamentale nel suo sviluppo. C'è la guerra, c'è il ruolo delle donne, il ruolo del riscatto delle donne musulmane. E qua c'è il viaggio epico, quello dei migranti. Quindi è una storia reale, è una vita breve, che dura 21 anni, ma che in sé racchiude degli universi simbolici esplosivi, potentissimi. Samia è una ragazzina somala che arriva alle Olimpiadi. Esatto, Samia è nata a Mogadiscio, Somalia, tre settimane dopo lo scoppio della guerra civile, per cui è nata con la guerra ed è nata con questo talento. Era veloce a correre, più di tutte le sue amiche e di tutti i suoi amici. E anche con un sogno, quindi un talento, ma anche la volontà di realizzare questo talento, quindi di correre e di vincere. In mezzo però si è trovata infinite difficoltà. La povertà, figlia di una famiglia molto povera, un paese musulmano che si stava avviando al fondamentalismo di Al-Shabaab, che poi ha preso il potere, quindi un paese in cui alle donne è vietato, come dire, esporsi, figuriamoci correre. E il fatto che fosse un paese in guerra, per cui non ci fosse, tanto per dire, neanche una struttura sportiva adeguata, assolutamente. E invece Samia, con le sue sole forze, con l'aiuto di Ali, del suo migliore amico che è il suo allenatore, unico praticamente, riesce ad arrivare a Pechino, agli Olimpiadi, a qualificarsi, a correre. Va lì, per lei è un sogno, sono i giorni più belli della sua vita, corre nei 200 metri, arriva ultima, eppure quel giorno accade il miracolo perché diventa eroina per le donne musulmane in tutto il mondo, comincia tornando a ricevere lettere da donne afghane, donne irachene, iraniane, degli emirati che dicono tu riscatterai il destino di noi donne musulmane. Eppure in patria, dopo le Olimpiadi, è molto più odiata di prima, è costretta a correre sotto il burqa, evidentemente si è esposta, ha corso in fronte alle telecamere di tutto il mondo, avviso scoperto, lo ha fatto da 17enne qual'era, quindi molto giovane e lo ha fatto non tanto per farla rivoluzionaria quanto perché era e si sentiva un atleta, quindi per andare più veloce si deve correre senza velo naturalmente, solo che questa cosa ha provocato nella sua vita l'odio nel suo paese e quindi è stata costretta a nascondersi poi. Una storia purtroppo finita tragicamente come la storia di tanti altri stranieri, persone che arrivano dall'Africa e che incontrano la morte nel mare vicino all'Italia. Eh sì, l'epilogo è tragico. Samia per andare incontro al suo sogno una notte deciderà di lasciare a piedi Mogadisce di raggiungere l'Europa per trovare un allenatore, un campo, una struttura adeguata che la portassero a qualificarsi per le Olimpiadi di Londra, quelle successive. A separarla dal suo sogno di nuovo un altro ostacolo, 8.000 km, 8.000 km di Sahara e poi il mare, il pezzo di mare da Tripoli a Lampedusa. Samia ci mette 18 mesi ad arrivare a Tripoli, un anno e mezzo. Arriva a Tripoli che è stremata naturalmente e il suo sogno si infrange tra i flutti del mare mediterraneo, che noi usiamo definire il nostro mare, ma naturalmente non è più nostro che dell'Africa. Il suo sogno si infrange tra i flutti del Mediterraneo, a Lampedusa non ci arriva, ma nonostante l'epilogo tragico, la storia di Samia è una storia felice, perché Samia è una persona, è un essere umano, è una giovane gazzella che fino all'ultimo istante della sua vita combatte per rimanere viva e per raggiungere il suo sogno. Quindi l'epilogo è tragico e lei è una delle 20.000, si dice, vittime che il mare mediterraneo si è preso negli ultimi anni, sicuramente sono anche di più, queste sono le stime più ufficiali. Samia non arriva a Lampedusa, non arriverà alle Olimpiadi di Londra, ma il suo sogno è di sopravvivere, diventa un'eroina, un simbolo e oggi ad esempio siamo qui a raccontare la sua storia.